buongiorno e bentornati sul canale youtube della pontificia facoltà teologica della sardegna innanzitutto ancora un grazie a tutti voi che avete voluto seguire i nostri nove appuntamenti in cui abbiamo proposto un cammino un cammino di lettura dell'indice della bibbia è stato un cammino breve molto sintetico ma ci auguriamo che sia stato sufficiente per rendere quell'indice più familiare in modo da far nascere e alimentare la curiosità di avvicinarsi ai testi della sacra scrittura un grazie particolare va a quanti hanno voluto scriverci con domande con osservazioni o con un gradito ringraziamento a tutti questi abbiamo risposto online oggi però vogliamo dedicare uno spazio video a una particolare questione che due persone tra voi ci hanno posto scrive una persona fin dal primo dei nostri appuntamenti leggendo esodo si capisce che quel dio è un'entità che ha creato solo guerre paure castigli uccidendo le proprie pseudo creature altro che amore un'altra persona commentando invece l'ultimo dei nostri appuntamenti ha scritto ho letto i primi libri della bibbia e mi hanno fatto arrabbiare un libro di guerra e di sterminio di popoli interi donne e bambini non può esserci un dio di amore nei racconti della bibbia la questione perciò è quella della violenza di cui leggiamo nei libri biblici che cosa possiamo rispondere a queste osservazioni innanzitutto dobbiamo dire che sì è vero leggendo l'antico testamento capita con una certa frequenza di individuare atteggiamenti tutt'altro che pacifici e concilianti qualche esempio nel libro dell'esodo al capitolo 15 versetto 6 leggiamo la tua destra signore annienta il nemico nel libro del levitico capitolo 26 dio stesso dice al popolo voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi colpiti di spada queste anzi sono parole di complimento di incoraggiamento per il popolo fedele ma poco dopo dio minaccia conseguenze terribili con parole molto dure proprio per il popolo se invece gli sarà infedele ma anche altri racconti come i racconti dei primi re di israele esaltano i loro successi in guerra come nel caso del primo re saul o come nel caso del suo successore davide davide per esempio nel secondo libro di samuele al capitolo 22 dice ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti non sono tornato senza averli annientati a volte poi anche se è molto più raro accade di vedere dio stesso impegnato contro i nemici in battaglia come nel libro del deuteronomio al capitolo 20 dove dio stesso dice il signore vostro dio cammina con voi per combattere con voi contro i vostri nemici e per salvarvi e almeno una volta egli stesso si esprime nei confronti dei nemici del popolo con termini non certo pacifici libro del deuteronomio capitolo 32 dove dio stesso dice farò vendetta dei miei avversari inebrierò di sangue le mie frecce altre espressioni piuttosto violente si trovano non dette da dio ma in alcuni particolari salmi che sono chiamati apposta salmi imprecatori come i salmi 58 83 109 oltre ad alcuni versetti sparsi qua e là come nel salmo 137 e poi ancora non mancano descrizioni di vicende piuttosto cruente pensiamo per esempio a quella narrata in genesi 19 con la distruzione di sodoma e gomorra e con la vicenda di lot che precede e che segue quella distruzione oppure come nel caso del capitolo 25 del libro dei numeri quando si narra di quegli uomini di israele che si unirono alle donne di un popolo nemico di un popolo pagano e attirarono su di loro le conseguenze della punizione di dio che coinvolse anche le loro compagne ebbene allora come devono essere letti questi episodi questi versetti danno l'immagine di un dio violento esaltano comportamenti violenti per capirlo è necessario avere almeno due attenzioni la prima attenzione riguarda ognuno di noi come lettore ognuno di noi avvicinandosi a un testo si muove con una serie di inevitabili precomprensioni precomprensioni che condizionano il nostro atteggiamento di lettore per esempio sapendo di avere davanti un romanzetto d'amore leggero tipo quelli che una volta venivano pubblicati sui rotocalti siamo portati se vogliamo leggerlo ad avere una certa aspettativa diversa dall'aspettativa che abbiamo avviandoci a leggere per esempio un romanzo poliziesco e la nostra aspettativa ci condiziona evidentemente se ci avvicinassimo a un bel poliziesco d'autore con l'aspettativa che abbiamo davanti a un romanzetto leggero d'amore finiremmo quantomeno per restare delusi se non peggio se non addirittura confusi ebbene nei confronti dei testi biblici dobbiamo essere certi di avere gli strumenti e le aspettative corrette prima di avviarci alla lettura la seconda attenzione con cui occorre muoversi riguarda i testi stessi prima di leggerli è necessario conoscere qualcosa della loro storia del loro genere letterario del contesto sociale e culturale in cui furono scritti e in cui si svolgono le vicende narrate nella bibbia abbiamo ricordato fin dall'inizio dei nostri video quanto ci insegna il concilio vaticano secondo nella costituzione dei verbum il concilio ci insegna che Dio nella bibbia parla alla maniera umana servendosi di uomini che hanno scritto come veri autori cioè hanno scritto nelle loro lingue seguendo la loro ispirazione illuminata da Dio stesso ma con la loro mentalità di cui occorre tenere conto se avremo queste attenzioni potremo avvicinarci ai testi accorgendoci di alcuni particolari importanti che ci aiutano a comprendere il senso e la natura anche di quei testi in cui compare la violenza un primo particolare i testi dell'antico testamento come avevamo già spiegato risalgono nel migliore dei casi a duemila anni fa chi scriveva aveva la mentalità la sensibilità il linguaggio le conoscenze la cultura di un popolo lontano da noi nello spazio nel tempo nella storia nella concezione stessa dei rapporti sociali e delle relazioni tra i popoli ebbene in quelle epoche la mentalità della guerra era la modalità più corrente di risoluzione dei conflitti conflitti che potevano coinvolgere popoli interi ma anche piccoli gruppi di etnie diverse o semplicemente piccoli gruppi che svolgevano diverse attività in concorrenza tra loro come nel caso per quanto riguarda il popolo di israele dei clan di pastori nomadi che si incontravano o scontravano con comunità di contadini stanziali ebbene queste realtà erano realtà che utilizzavano la guerra il conflitto armato come una modalità corrente di risolvere le proprie questioni e questo fatto coinvolgeva inevitabilmente anche la sfera religiosa un dio della guerra infatti si trova in tutte le religioni antiche giusto al tempo dell'imperatore augusto la cosiddetta pax romana aveva portato un periodo di relativa tranquillità nell'impero ma ricordiamoci era una pax garantita comunque da un solidissimo apparato militare ma anche nei rapporti tra le persone la violenza aveva un posto particolare che noi non conosciamo e abbiamo superato nelle nostre culture nei rapporti tra le persone la violenza era considerata addirittura come una modalità per ristabilire e garantire la giustizia la famosissima espressione della cosiddetta legge del taglione occhio per occhio dente per dente non è altro che una parte di un versetto della bibbia libro del levitico capitolo 24 versetti 19 e 20 frattura per frattura occhio per occhio dente per dente ai nostri oretti una frase del genere suona davvero come qualcosa che fa inorridire ma sappiamo che per quei tempi si trattava invece di una modalità abbastanza evoluta una modalità che serviva a limitare quella che era la prassi più corrente la prassi della vendetta vendetta che peraltro per quei tempi e per quei popoli era considerata comunque una modalità per ristabilire una sorta di equità che era stata in qualche modo spezzata d'altronde anche gli apparati giudiziari sia quello biblico sia l'apparato del diritto romano utilizzavano la condanna a morte o la violenza fisica come modalità corrente di pena per i reati tutti aspetti che le nostre culture hanno in larga parte sebbene non dappertutto superato ebbene nel leggere i testi biblici dobbiamo tenere conto di questo contesto che non era soltanto un contesto sociale ma anche culturale proprio il linguaggio che veniva usato risentiva di questo clima se quindi teniamo presente che i racconti dell'antico testamento sono stati scritti sempre dopo gli eventi che narrano non sono contemporanei addirittura molti scritti dell'antico testamento sono stati redatti a distanza di qualche secolo dagli eventi che narrano allora capiamo che quella che noi leggiamo è la interpretazione di quegli eventi non la cronaca è la interpretazione risente delle modalità espressive e culturali di chi redigeva i testi quindi dato che quella mentalità era intrisa di guerra e di violenza possiamo capire come fosse del tutto normale per il popolo di israele interpretare le proprie vittorie militari le proprie conquiste della terra promessa per esempio come sostenute dall'intervento di dio e una lettura teologica data a posteriore ben lontani dagli eventi che vengono narrati chi ha scritto quei testi ha riletto la propria storia di popolo come un altalenarsi di fedeltà e di infedeltà di fronte a dio a giudizio degli autori dei testi biblici di fronte alla fedeltà del popolo c'era sempre il sostegno di dio anche nelle operazioni di carattere militare così come nelle vicende personali di conflitto se il popolo aveva vinto era perché dio lo aveva sostenuto se il re aveva portato un riportato un successo in battaglia era perché dio era con lui ma è una lettura successiva così al contrario l'infedeltà del popolo faceva leggere tutta una serie di disgrazie che sono poi quelle inevitabili che possono accadere nella storia della società come una punizione di dio si tratta di letture a posteriori che esprimono un giudizio teologico cioè esprimono una dimensione di fede pur con quel linguaggio violento e guerrafondaio che era tipico di quei tempi in quest'ottica vanno letti anche i cosiddetti salmi imprecatori i salmi imprecatori come tutti gli altri salmi sono delle preghiere ebbene sono preghiere con cui si chiede a dio di intervenire nei confronti dei propri avversari nei confronti di chi maltrattava colui che pregava è vero che si chiedono dei gesti piuttosto violenti che dio dovrebbe compiere pensiamo per esempio al salmo 109 o agli ultimi versetti del salmo 137 però dobbiamo capire che così facendo chi pregava faceva una scelta precisa da un lato esprimeva i sentimenti più normali di uno sfogo istintivo d'altronde a chi di noi non è capitato almeno una volta di mandare qualche accidente soltanto per aver subito qualche scorrettezza per esempio non so un sorpasso azzardato dall'altra parte chi pregava con quei salmi rinunciava a compiere con le proprie mani qualsiasi gesto ostile rinunciava quindi a vendicarsi rinunciava anche a ricorrere a quella giustizia che magari sarebbe stata violenta nei confronti di chi gli aveva fatto un torto e preferiva affidarsi a dio affidarsi a dio e al suo intervento per ristabilire quella che riteneva una ingiustizia subita chiedeva a dio di danneggiare il suo nemico ma questa richiesta ha il senso di affidare a lui il compito di ristabilire la giustizia non dimentichiamo però che la grande maggioranza dei racconti dell'antico testamento è una raccolta di racconti di vicende serene di vita del tutto normale e pacifica addirittura di racconti di racconti di vicende di amore come nel caso del cantico dei cantici non esageriamo ponendo l'accento su questa violenza anche nell'antico testamento infatti è presente l'insegnamento che porta ad amare gli altri anche i nemici il famosissimo detto di Gesù e di san paolo ama il prossimo tuo come te stesso non è una scoperta di Gesù ma è una citazione dell'antico testamento libro del levitico capitolo 19 versetto 18 e nei testi dell'antico testamento troviamo altre raccomandazioni di intervento in favore del nemico per esempio nel libro dei proverbi al capitolo 25 leggiamo se il tuo nemico ha fame dagli pane da mangiare se ha sete dagli acqua da bere perché così ammasserà i carboni ardenti sul suo capo e il signore ti ricompenserà il modo per far sì che il nemico si accorga della negatività dei suoi atteggiamenti è quello di fare del bene al nemico così come ancora al capitolo 23 del libro dell'esodo troviamo una raccomandazione per soccorrere l'asino del proprio nemico se lo si vede troppo carico povero animale quindi quella che leggiamo non è l'immagine di un dio violento ma è la realtà di una storia umana interpretata e raccontata in forma scritta seguendo le modalità espressive i criteri culturali e sociali propri di quei secoli se sfrondiamo i testi da quelle modalità espressive da quelle caratteristiche così un po ruvide allora vediamo emergere la realtà di un dio che cammina accanto al suo popolo un dio che lo accompagna nelle sue vicende ed è legato a quel popolo da un grande amore un dio che quasi è capace di dispiacersi se vede il popolo che si rivolge a dei stranieri che non gli è fedele o se vede tante persone come i re i governanti che trascurano i più deboli gli orfani e le vedove così come si vede l'immagine di un dio al quale chi prega può affidare tutti i propri problemi e i propri sentimenti così come li porta nel cuore non c'è bisogno di cambiare linguaggio davanti a dio questo è il senso di quei salmi così apparentemente duri vogliono dire una confidenza tale per cui davanti a dio non c'è bisogno di cambiare linguaggio si può parlare così come si sentono le cose nel cuore dio ricompenserà dice la bibbia come dice anche il nuovo testamento non esaudirà non accoglierà quelle preghiere che avrebbero desiderato una sorta di vendetta vera e propria ma non mancherà di essere vicino a chi lo prega anche se chi lo prega è talmente disperato da usare termini forti e quindi se abbiamo queste attenzioni noteremo che l'immagine di dio è del tutto positiva anche se quelle stesse descrizioni a volte così crude ci ricordano che nell'antico testamento mancava ancora qualche cosa perché gli uomini comprendessero in modo pieno il vero volto di dio qualcosa che troviamo davvero nel nuovo testamento nel nuovo testamento anche se il clima culturale e sociale non era molto diverso dato che la pax romana veniva comunque mantenuta a prezzo di misure severe come sappiamo dalla vicenda personale stessa di gesù ebbene anche se quel contesto non era così diverso non troviamo le stesse espressioni un po' cruente salvo che non vogliamo vedere ad ogni costo la violenza anche in gesti simbolici come quando gesù nel tempio rovescia i banchi dei cambiavalute un gesto di carattere profetico che voleva essere puramente simbolico non era un gesto che indicasse un particolare o astio di gesù nei confronti di quelle persone oppure qualche altra affermazione iperbolica che gesù fa quindi nel nuovo testamento il contenuto cambia in modo radicale gesù capovolge ogni logica precedente e insegna proprio a rinunciare a ogni atteggiamento violento anche quando era necessario ristabilire la giustizia gesù propone una modalità del tutto diversa e insegna la riconciliazione con chi ci ha fatto un torto vangelo di matteo per esempio capitolo 5 versetti da 23 a 25 e insegna a parole molto chiare l'amore per il nemico un amore fatto della comprensione delle ragioni dell'avversario e delle esigenze che anche lui ha nella sua vita non l'amore di chi va a farsi uccidere certamente non è questo il senso ma il senso è quello di un amore fatto della comprensione delle ragioni e delle esigenze dell'avversario sempre nel vangelo di matteo al capitolo 5 versetti da 38 a 40 gesù poi arriva a parlare addirittura di un comandamento nuovo amatevi gli uni gli altri senza distinzione è l'amore vicendevole questo comandamento lo leggiamo nel vangelo di giovanni al capitolo 13 e al capitolo 15 per ben due volte e anche san paolo proponendo l'insegnamento di gesù in tutte le 13 lettere che portano il suo nome insiste per l'amore disinteressato e altruista come vera caratteristica di ogni credente un amore capace di superare tutte le divisioni e tutte le distinzioni in questi insegnamenti emerge il vero volto di dio il volto del padre che invita tutti gli uomini a riconoscersi come suoi figli qualcuno potrebbe obiettare che anche nel nuovo testamento abbiamo un libro con immagini di violenza certo è il libro dell'apocalisse ma quel libro appartiene a un genere del tutto particolare le immagini di guerre di battaglie di devastazioni di avversità di vario genere di sgrazie di diversa natura si vede bene dalla stessa modalità con cui sono descritte che non sono immagini reali si tratta di un modo immaginifico per dare una lettura della storia in cui vivevano le prime comunità cristiane i primi cristiani si chiedevano le ragioni delle persecuzioni del clima di violenza, delle disgrazie che accadevano nel loro mondo quel libro attraverso il suo linguaggio così tutto particolare dice che ogni avvenimento, anche il più drammatico, ha comunque un fine positivo perché serve a spingere gli uomini alla conversione a spingere gli uomini a ritrovare una corretta e gioiosa relazione con Dio grazie per averci seguito fin qui e per averci dato con le vostre osservazioni l'opportunità per aggiungere queste considerazioni arrivederci grazie a tutti